Buonasera signore, vorrei permettermi di suggerire consomme d'Orléans, soup colbert, gelée de bouillon, crepe valesca, alla sauce supreme, rigato, ah, e noi come un eco rispondiamo, barilla, 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 barilla. Barilla vi fa sentire sempre al dente. Buonasera signora, dottore. Buonasera signora, vorrei permettermi di suggerire consomme d'Orléans, potage suassonese, crepe valesca, d'arte a la reine, marmite lyonnaise, soup colbert, gelée de bouillon, bouillon royal, crepe valesca, alla sauce supreme, rigato, ah, E noi come un eco rispondiamo, barilla, 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 barilla. Barilla vi fa sentire sempre al dente.